Gira grazie Tranquilla, tanto scatta dopo quattro ore che uno fa Pugno duro grazie Brava Gira grazie Apri E poi quando siamo presi Guardiamo anche i fotografi Ci manca il capo Ma riesco Stiamo facendo interventa Se ci siamo Stiamo un'occasione per intervistare Pugno, grazie duro Nostra allievi di Danite Monica Argentini A questo momento Una domanda a piedi di nostro capo Che importanza ha il capo per te Ma no, dai no Guardi il vendaggio Allora E' seria la cosa No No Quindi l'ho vendaggio No Mi faccia pure il video Perché mi ha fatto No No Ragazzi You come on please to sign me No 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 Grazie a tutti. 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 Melco, tu combatti così, non ti cambi, giusto? Cammini, eleganti. Amici, sono Dario. Grazie a tutti.